Sono Erika Salvatori, docente di storia medievale negli Stati Pisa e direttore del Laboratorio di Cultura Digitale. Al Mab ho presentato un'edizione digitale per capire come può essere utile un'edizione digitale per coinvolgere la comunità, comunità di fedeli, comunità di un territorio pubblico, cioè come si fa, quali sono le accortezze per lavorare sul digitale con le fonti culturali per coinvolgere le persone. Al cuore c'è il rigore del metodo ma certamente anche pensare alla pubblicazione rivolta all'utente, quindi che favorisca la partecipazione della gente. È mia profonda convinzione che solo se si consente all'utente di partecipare lo si riesce a coinvolgere veramente nell'operazione culturale. E il Mab è comunicazione e partecipazione.